Piacenza merita un trattamento diverso rispetto al resto del paese, con maggiori aiuti economici e un più alto livello di attenzione. Non è pienamente soddisfatta del recente decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, il sindaco di Piacenza e presidente della provincia Patrizia Barbieri, che ieri nel tardo pomeriggio, attraverso il consueto messaggio pubblicato su Facebook, ha chiesto chiarimenti al governo sulla fase 2 e al tempo stesso risposte precise dalla sanità sull'epidemia a Piacenza. Il sindaco chiede di conoscere le linee guida precise per la riapertura dell'attività e parla di silenzio assordante su scuola e famiglia. Per chiudere la fase 1, ha scritto, occorre che la sanità ci fornisca risposte precise e puntuali sulla corretta lettura dei dati, contagi, decessi, numero dei positivi ancora alto nel nostro territorio e su come si intende effettuare uno screening della popolazione, perché dobbiamo assolutamente scongiurare il rischio di un secondo lockdown, che sarebbe una catastrofe sotto ogni punto di vista. Mentre per quanto concerne la fase 2, il governo deve fornire quanto prima tutti i chiarimenti attesi, perché è impensabile tenere tante persone in uno stato di totale incertezza, sia per quanto riguarda le misure di sicurezza necessarie per la salute, sia con riguardo ai contributi necessari per il futuro economico della nostra provincia. Torno a chiarire, ha poi puntualizzato Barbieri, che sia in quanto sindaco di Piacenza, sia in qualità di presidente della provincia, i miei poteri sono limitati. Possiamo operare scelte sulla base delle decisioni che il governo nazionale e la regione Emilia-Romagna stanno prendendo. Cerchiamo dunque di muoverci con anticipo, proprio per non perdere tempo prezioso, e cerchiamo di far sentire le nostre ragioni nelle sedi opportune, perché si è riconosciuto che Piacenza merita un trattamento diverso rispetto al resto del paese, con maggiori aiuti economici e un più alto livello di attenzione. Infine, Patrizia Barbieri ha chiesto che siano fornite al più presto linee guida precise a cui certe attività dovranno ottenersi per poterli aprire, per esempio come potranno operare bar e ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Ci sono interi settori, conclude, che stanno morendo e le indicazioni del recente decreto non danno né tranquillità né risposte.